non potevamo non intervistare Dino Breck qua ai tavoli del lipo dei 1b la domanda è si arriva al Dino di domani mi domanda adesso domani non si può credo che si può mi spiace che uscito Lacchinelli perché se no facevamo ci ha preso solo per quella SNAE noi non lo vedo più l'ho cercato per fargli un'intervista terza mano è uscito così era felice aveva fatto i tm alle Busop allora è arrivato ci hai fatto vedere questo problema di aver fatto i tm alle Busop non ce l'hai quindi però ho portato a casa le quote dei fratelli Runei e Lacchi è il primo anno che faccio più alle Busop io senza andarci tu sei non stato a Las Vegas non hai giocato però hai vinto più degli altri più degli altri no però di molti sì ti lascio giocare Dino va bene era ora sicuro non vai andare avanti se non arrivo ma andare avanti in che senso con l'intervista no 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 se non arrivo se non arrivo al D2 guarda non ti disturbo più tranne che per la presentazione del final table tra due giorni devo venire a presentare io commentare ok va bene va bene ci sono ciao a tutti